Ciao a tutti, io sono Letizia dalla redazione di Flash Giovani e il mio libro dell'anno è Scrivi sempre a mezzanotte, lettere d'amore e desiderio di Virginia Woolf e Vita Sackville West. Le autrici di questo carteggio ventennale, all'interno di queste pagine si scambiano i loro sentimenti, dimostrano la gelosia, la gratitudine e ironizzano sui loro caratteri e soprattutto si nutrono di una parola che è lontanissima dalle mire di anticonformismo e che per questo motivo riesce ad essere assolutamente eccezionale. Eccezionale dal punto di vista letterario per la caratura fuori norma delle autrici ed eccezionale dal punto di vista erotico e sentimentale perché le due donne riescono a catturare la corrispondenza assolutamente naturale ed eccezionale di un sentimento fino a quel momento irrappresentato e irrappresentabile con la profondità di una cultura che è quella vera della forma letteraria e che rende questo libro assolutamente imperdibile. Ciao a tutti, io sono Edoardo Di Gennaro e il libro che vi consiglierei di leggere quest'anno è Dostoievski, Le notti bianche. Perché ho scelto questo libro? Perché è un autore che scende molto nell'intimità. Mi sono ritrovato in svariati episodi che racconto lo stesso autore e soprattutto quello che sono riuscito a fare per le pochissime volte è dare una voce al narratore che non sia la mia. Questa è una cosa che consiglio a prescindere durante tutte le letture se ci si riesce, se ci riuscite. Con questa lettura mia mi è risultato molto facile. Le notti bianche sono ambientate a San Pietroburgo, sono quattro notti bianche perché essendo una città che è molto vicina al polo nord durante l'estate, ambientato ovviamente d'estate, ha questo continuo chiarore durante le notti in cui si sviluppano e si articola tutta la storia. Non vi dico altro perché non voglio spoilerare assolutamente la storia. Vi auguro una buona lettura. Ciao, io sono Chiara e ho scelto un polpo la gola di Zero Calcare. Devo dire che prima di questo fumetto non conoscevo così tanto Zero Calcare. Avevo giusto letto alcune cose su Internazionale e mi ha fatto compagnia durante il lockdown con la serie animata Re Bibbia Quarantine. Dopodiché mi sono trovata in casa questo libro che probabilmente era un regalo di Natale che avevo dimenticato e quindi nonostante io non sia appassionata di fumetto l'ho rivolato in un pomeriggio perché Zero Calcare riesce a creare un ambiente, una sorta di romanzo di formazione che va a ripercorrere anche un po' tutti quei personaggi mitologici che fanno parte non soltanto della sua rigenerazione ma anche della nostra come Corco Bain, Joe Strammer. Una storia di evoluzione che va dall'infanzia fino all'età adulta nella quale chiunque penso può riconoscersi. Ciao, sono Riccardo e oggi ti voglio consigliare questo libro Sostiene Pereira di Antonio Zabucchi. È un libro che mi ha appassionato sin da quando ero in liceo. È una grande possibilità di evasione soprattutto in questo periodo di chiusura, soprattutto per la possibilità di evadere in un posto lontano come il Portogallo degli anni 30, dove questo dottor Pereira, protagonista di Racomboleschi e Avventure, in qualche modo riscopre la sua passione per l'investigazione, lui giornalista, grazie anche a un giovane ragazzo di origini italiane e che lo porta a riscoprire non solo la passione per il suo lavoro ma anche la riscoperta dell'amore per il suo paese e soprattutto per le persone che lo abitano. Quindi per quest'anno voglio consigliare Sostiene Pereira.